Dagli occhiali spessi e le giacche vintage usurate dal tempo, il docente d'economia e commercio conferisce di partite doppie, rate, ammortamenti e bilanci. Spiega formule e teorie e con assoluta convinzione afferma che con i numeri, nella vita, si può fare di tutto, perfino volare. Preso da quell'ingorgo caotico di formule e numeri come traffico nell'ora di punta, lo studente figlio di Antonio sposa piano con le autore di pensiero, attende la fine della lezione e prima di andare via si rivolge al proprio docente affermando Mi scusi, è vero, gli uomini possono anche volare sì, ma anche senza numeri. So che farà fatica a crederci, ma domenica vengo allo stadio e glielo dimostrerò. Sorpreso da quella sicurezza e nelle parole ascoltate, il docente alla domenica si reca allo stadio, vede il proprio studente uscire dal tunnel, petto in fuori, sguardo glaciale e guantone alle mani, una solita partita di calcio, pensa. Poi però eccola lì, la dimostrazione pratica che avvalora le parole del proprio studente. Guida l'intera retroguarda con fare meticoloso, tiene tutti sull'attenti, sistema la barriera con cura maniacale e non appena il cuoio minaccia tempesta e condanna ad una velocità sostenuta, il numero uno nero verde fiuta la minaccia, segue la traiettoria della sfera e come fosse un movimento del tutto naturale, abbandona l'erba sotto i suoi tacchetti ed inizia a volare. Colpi di reni Paldoni spinta in un sospiro oltre la traversa, ad un centimetro dalle ranne tre nel sette, ottenute miracolosamente in vita sulla linea di porta, un'infinità di rigori parati, record di battibilità, gesta, queste, file del lavoro settimanale svolto fino ad esaurimento energie con un maestro di sport e di vita come mister Gianni Iurino e col suo compagno di reparto Gigi Zinfollino. Tanto lavoro, tanta passione e la piena consapevolezza di andare incontro ad una carriera in cui si è i primi ad arrivare e gli ultimi ad andare via. Un po' come è accaduto a quella lezione di economia, quando Antonio Figliola ha atteso che tutti andassero via per poter contraddire proprio alla mano il proprio docente, affermando che gli uomini, anche senza numeri, possono e sanno volare.